Nel 1989 doppiò Francesca Dell'Era nella miniserie TV La bugiarda. Nel 1990 Alessandro Dalatri la volle nel film americano Rosso, con il quale l'attrice iniziò a farsi notare in un piccolo ruolo. Nel 1993 recitò nella commedia Anche i commercialisti hanno un'anima, al fianco di Enrico Montesano e Renato Pozzetto, né il giudice ragazzino. Insieme a Giulio Scarpati e soprattutto in Diario di un vizio di Marco Ferreri, mentre l'anno successivo raggiunse la notorietà con La bella vita di Paolo Virzi, con cui ottenne il premio Panorama alla 52esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e Il nastro d'argento alla miglior attrice protagonista, oltre che una candidatura al David di Donatello. Durante gli anni successivi prende parte al film Vite strozzate di Ricky Tognazzi e continua a comparire in buone commedie, come Ferie d'agosto, sempre di Virzi e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Ha condotto il Festival di Sanremo 1996, insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Due anni dopo, ottiene ruoli da coprotagonista nel film drammatico Tu ridi dei fratelli taviani e nella commedia Il signor 15 palle di Francesco Nuti. In questi giorni sta spuntando un'indiscrezione riguardante Maria De Filippi e Sabrina Ferilli e un ipotetico litigio tra le due. La regina delle conduttrici televisive da un lato, l'attrice romana dall'altro, hanno spesso collaborato nelle trasmissioni di Casa Fascino, come amici Tussic e Vales. Qualcuno però ha cominciato a supporre che tra le due ci sia stata una sorta di rottura, ipotizzando una lite sulla quale a far luce è una delle dirette interessate. Sui social, infatti, Sabrina Ferilli ha risposto direttamente alle speculazioni che si stanno affollando a riguardo. Cosa avrà risposto di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.